Riprendiamo finalmente il viaggio, dopo una pausa di quasi tre mesi, e ci dirigiamo verso la tanto ambita Early Beach. Ci regaliamo una piacevole giornata ad Early Beach Lagoon, una piscina artificiale con vista mare completamente gratuita. Cosa abbiamo in programma? Una delle esperienze più belle qui in Australia. Immergetevi con noi in questa nuova fantastica avventura. Il tour che abbiamo scelto è organizzato da Red Cat Adventures, 189 dollari a persona, tutto incluso, dai trasporti allo snorkeling. Ed ecco a voi il Thunder Cat, uno dei catamarani più veloci per raggiungere la fantastica meta di oggi. Lasciamo il porto alle spalle preparandoci ad un'emozionante corsa. Per un'esperienza memorabile suggeriamo i posti davanti. Per un'esperienza recherché. Siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti